Siamo nel mese dedicato a Madame Carrie Bray Show, di certo l'indiscussa eroina di Sex and the City. La serie tv, trasmessa dalla HBO dal 1998 al 2004 per sei stagioni, sarebbe troppo lunga da raccontare. Ma il film, almeno il primo del 2008, diretto da Michael Patrick King, è una buona sintesi delle vicende della serie, che nel frattempo è cresciuta e si è raffinata, seppure di gusti americani stiamo parlando. Insomma, brevemente non ci adentriamo nell'argomento proprio perché vi parla un comtesse e sarebbe un po' sconveniente analizzare questo puron francese. La moda è un punto fermo nell'economia della serie. Carrie non ha mai indossato un abito due volte e abiti e accessori che arrivavano dalle sfilate di moda e da nomi altisonanti sono stati interpretati dalla stylist Patricia Field, molto in sintonia con gli outfit un po' eccessivi delle ragazze. Ma come ho detto, preferisco parlarvi del film e del suo messaggio, perché sono in vena romantica mentre rilego le antiche lettere d'amore dei miei anciani corteggiatori, conti, duchi, baroni. Ah, l'amore! E infatti l'amore accompagna le quattro ragazze. Un epilogo scontato, direte voi. No, perché nella serie tv si è vero che c'era una tensione costante verso il vero amore e anche è vero che i tre pilastri fondamentali erano la città, la moda e il sesso. Lo spettatore è però ignoro del fatto che il finale abbia bisogno di questo eterno happy end, di questa sempre verde idea della donna che si sposa o fa figli o mette su casa. Sì, professionista, gran pevitrice di cosmopolitan, frequentatrice della gente che conta, sfrontata e volubile. Finché quel tempo finisce. E l'ideale è sempre che sia giusto così, farlo finire. Ecco perché la critica americana non si è mai messa d'accordo sul giudizio definandolo in alcuni casi il miglior film americano sulle donne finora mai visto, ma anche una volgare, superficiale e oltre in modo lunga ha aggiunto ad uno show che nel corso degli anni si è voluto dispanso in maniera sorprendente. La contessa ha preferito la serie tv, ma guardarlo fa almeno sorridere un po', quindi non lo stronca. E adesso sono proprio curiosa di rileggere alcune di queste lettere. A bientôt, mes amis.